ossia dal tuo carattere. In che senso dici che la mia vita era programmata? Commento. Era programmata dalle tue limitazioni, ossia dal tuo carattere. Tu, ad esempio, prima di incarnarti eri molto avaro, incline a soddisfare le necessità della pancia e amante del mare. Allora in questa incarnazione hai fatto molto denaro che non hai mai dato a nessuno, hai mangiato molto e bene e ti sei comprato una barca d'altura.